ciao ragazze bentornate oggi voglio parlarvi di questo viaggio che io ho fatto a grass oggi sono ancora qui in albergo quindi vi parlo proprio dall'albergo dalla mia camera è un viaggio straordinario a cui ci tenevo veramente tanto questa è la capitale del profumo è davvero molto entusiasmante venire qui io ho visitato le maison fragonare dove ci hanno fatto vedere la creazione del profumo e quindi come viene prodotto fino alla vendita del profumo stesso ho visto anche la maison molinar abbiamo anche visitato il museo provenzale del costume il museo internazionale della profumeria e anche la cattedrale di grass dove sono custoditi addirittura tre quadri di rubens veramente un viaggio come dicevo prima entusiasmante che consiglio a tutti vi racconterò poi successivamente tutto quello che ho fatto grass è una città in stile medievale di circa 53 mila abitanti a 80 chilometri dal confine italiano e a 16 chilometri da cannes la coltivazione dei fiori occupa gran parte del territorio fu grazie alla regina caterina de medici che nel sedicesimo secolo introdusse in francia la moda dei guanti profumati che si iniziò a produrre essenze oggi grass vanta tre profumeria importanti in tutto il mondo fragonare molinar e galimar ma cominciamo a visitare il museo internazionale della profumeria jean françois costa lo inaugurò nel 1975 qui troviamo oggetti antichi legati alla storia del profumo questa è la cartina che rappresenta la coltivazione di fiori in grass la raccolta della rosa e del gersomino viene eseguita dalle donne avviene all'alba prima che faccia troppo caldo con l'aiuto di cestini o ampi grembiuli la distillazione a vapore e l'influrage dei corpi grassi ormai estinti sono le due tecniche storiche di lavorazione delle materie prime i prodotti sintetici arricchiscono la tavolozza del profumiere fino ad allora composta da ingredienti naturali nascono così nuovi profumi come la vanillina e la cumarina questo è l'organo del profumiere e appartenuto a jean carles il creatore di tabù di dana e di magriff di carven direttore della prima scuola di profumeria a grass e l'origine della piramide olfattiva nel ventesimo secolo le aziende di profumerie si sono ingrandite c'è la concezione del designer che valorizza il profumo sia per la concezione artistica che per la forma e suoi materiali la produzione delle fragranze è fatta in aziende di profumeria dove vengono utilizzati sistemi automatici di dosaggio ad alta precisione negli ultimi dieci anni le strategie di marketing tendono a rendere il lusso accessibile a tutti fin dall'antico egitto il profumo occupa un posto importante nei riti religiosi si usano composti odorosi per imbalsamazioni fumigazioni e unguenti profumati questo è il kifi il profumo più antico del mondo usato nei rituali religiosi queste anforette erano usate nell'antica grecia per mettervi i balsami e i profumi nell'antica roma le ampolle di vetro sostituiscono gli altri materiali usati in profumeria per conservare oli preziosi questo cofanetto è stato realizzato con la corteccia di bergamotto introdotto in francia da caterina de medici intorno al 1530 la moda dei guanti profumati conferma la vocazione per le profumerie di grass i guantai utilizzavano piante aromatiche sotto forma di polveri o essenze per nascondere l'odore delle pelli qui troviamo i macchinari per l'influrage a freddo scoperto a grassi nel 1750 veniva usato per i fiori delicati come gersomino e tuberosa permettendo al grasso depositato su telai di vetro di assorbire l'essenze senza rovinare i fiori i fiori adagiati sul grasso venivano cambiati una volta al giorno per 40 giorni e poi messi nello sbattitore con alcol il grasso rilasciava il profumo all'alcol questo veniva chiamato assoluto questa tecnica è stata usata fino agli anni 70 nell'influrage a caldo invece i fiori meno fragili vengono macerati con sostanze grasse scaldate a bagnomaria questo flacone di chanel 5 risale al 1921 anno in cui cocò chanel si trovava a grass aveva chiesto al naso profumiere ernest beau di creare un profumo elaborato che non avesse il solito odore di mughetto o di rosa ernest beau le presentò dei campioncini numerati dal numero 1 al numero 5 e dal numero 20 al numero 24 lei scelse il numero 5 nacque così chanel numero 5 che al suo interno contiene il gessonino di grass all'esterno del museo c'è la statua che rappresenta l'abito del profumiere con tutti i suoi attrezzi da lavoro queste vie del centro sono piene di ombrelli sospesi in aria che proteggono dal sole scende circa ogni 2 3 minuti l'essenza di rosa sotto forma di nebulizzazione nel centro di grass possiamo intravedere la maison fragonare dove avviene la creazione del profumo dalla fabbrica alla vendita in negozio l'edificio risale al 1783 nel 1926 eugène fuchs fondò la fabbrica del profumo dando il nome fragonare dedicandolo al famoso pittore di grass jean honoré fragonare l'industria continua da quattro generazioni a conduzione familiare entrando si trova il telaio di vetro con i gelsomini adagiati sopra per l'influrage a freddo a 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 fra a a a a a a a a a abbiamo la macchina per la distillazione. Qui vengono messi i fiori con al fondo l'acqua che è portata a ebollizione. Evaporando trasporta le molecole olfattive, si raffredda, si condensa, l'olio dell'essenza rimane a galla e l'acqua al fondo. Infine si separa l'olio dall'acqua e si mantiene così l'essenza profumata. In sostituzione dell'influrage a freddo, oggi la tecnica moderna utilizza il solvente. Qui siede il naso profumiere per comporre la sua fragranza. Occorrono circa dalle 20 alle 250 essenze. Nella parte più alta ci sono le note di testa, quelle più leggere. Nella parte sottostante le note di cuore e infine in basso le note di fondo, quelle più persistenti. All'interno della fabbrica Fragonard c'è la profumeria. Piccino al museo della profumeria è situata la statua di Jean Honoré Fragonard, pittore del XVIII secolo famoso in Grasse. Qui ci troviamo davanti alla sua villa. Jean Honoré Fragonard era figlio del guantaio profumiere François Fragonard. Oggi è un museo che ospita i suoi meravigliosi quadri in stile rococò. qui ci troviamo davanti al museo Molinar. ację a a a a a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Qui finisce il nostro viaggio a Grasse, meravigliosa città della costa azzurra, ricca d'arte e di incantevoli fiori che ne hanno fatto la capitale del profumo. Bene per oggi questo è tutto ragazze, spero di esservi state utili nel farvi vedere questo video che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, non mancate perché vi racconterò di alcuni profumi che ho acquistato qui a Grasse. Ciao a tutte!